Non è facile entrare su 2-0, 9 contro 11 e non mollare? No, non bisognava mollare, bisognava fare il terzo il prima possibile per non avere più nessun problema. L'abbiamo fatto e poi è chiaro, dopo non c'è più partita, però è chiaro, la partita è stata il primo tempo. Il primo tempo in cui loro avevano iniziato molto bene come noi, partita aperta, azione noi, azione loro. Noi abbiamo mollato un po' dopo la prima espulsione, loro meritavano i pari in quei momenti. Poi abbiamo fatto il secondo e dopo il secondo c'è stato il fallo brutto, la seconda espulsione e la partita è finita lì. Però loro avevano iniziato molto bene la gara. Sì, l'abbiamo detto anche noi proprio in Telecronica e poi questo pattarello detto da tutti che ha cambiato veramente la partita fin dall'inizio perché le sue accelerazioni sono state veramente devastanti e ha portato al doppio vantaggio. Sì, sì, lui stava molto bravo ma come tutti gli altri, stava molto bravo il ragazzino alla prima partita titolare per esempio e tutti, dai, tutti hanno fatto una grossa gara.